Il prossimo intervento è Giovanni Donolo, Head of Business Development di Engie in videocollegamento. Buon pomeriggio a tutti. Prego. Innanzitutto un ringraziamento e i miei complimenti per l'evento organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale di Livorno e da Ambrosetti e tutto il team che ha lavorato in questi mesi a questo interessantissimo studio. Noi come gruppo Engie che è una multinazionale francese presente in Italia da molti anni sia nel campo della Thermal Generation dove abbiamo sei siti di produzione di cui quattro lungo la costa tirrenica e in prossimità di porti. Abbiamo poi un parco di circa 500 megawatt di produzione da fonti rinnovabili in particolare nel sud dell'Italia. E poi siamo presenti in tutti i servizi di efficientamento energetico per quanto riguarda sia il settore industriale che la pubblica amministrazione. Noi come gruppo Engie già da molti anni crediamo nell'idrogeno anche in parallelo con il gas naturale come elemento di supporto alla transizione energetica. Il gruppo Engie ha nel mondo dell'idrogeno già in pipeline nel mondo alcuni progetti su scala industriale, su larga scala come un progetto in Australia per quanto riguarda la produzione di fertilizzanti in collaborazione col gruppo Yara, nel campo minerario in Sudafrica e nella produzione di ammonia in Cile. In Europa abbiamo alcuni progetti in Francia e in Olanda per quanto riguarda il trasporto sia ferroviario che su strada a idrogeno con dei punti di rifornimento. In analogia ai progetti SNAM sempre tra l'Olanda, il Belgio e la Francia l'immissione di idrogeno nel network di distribuzione del gas metano. Abbiamo poi alcuni progetti in Belgio tra cui anche in collaborazione con il gruppo INEOS e INOVING, in particolare in Belgio e in Olanda abbiamo dei progetti all'interno delle aree portuali di Anversa, di Ghent e di M7 nel nord dell'Olanda. A partire dal gennaio di quest'anno stiamo cercando di replicare il business model che abbiamo in Olanda e in Belgio di creazione di questi idrogeno in valle o ecosistemi industriali di cui la produzione di idrogeno è una parte, come ricordato da alcuni interventi precedenti, di replicare questo modello di business in Italia. Crediamo molto che come sito, un sito industriale in posibilità di un porto sia uno dei maggiori siti di interesse, per questo abbiamo preso contatto con alcune port autorità di sistema portuale, tra cui Livorno, Brindis, Palermo, ma non solo, cercando di presentare quelli che sono le nostre idee e i nostri progetti, in particolare all'autorità di sistema portuale abbiamo avuto la possibilità di presentare le nostre idee al nuovo segretario generale, l'avvocato Paroli, all'amministrazione comunale di Livorno, lo faremo in futuro ad altre amministrazioni pubbliche sulla costa tirrenica. Quindi noi crediamo molto a questa possibilità, nonostante tutte le riserve già espresse per quanto riguarda la produzione da fonti rinnovabili, il costo dell'energia legata a questa produzione, la possibilità di evitare i costi di sistema per abbattere il costo di produzione dell'idrogeno e la necessità di creare a valle una filiera il più possibile ampia, è basata su accordi di lungo periodo con diversi stakeholders, off-takers relativamente all'idrogeno, all'ossigeno e a tutti, diciamo, quelli che si chiamano i fuel che si potrebbero venire a produrre. Siamo presenti anche con le nostre due centrali all'interno dello salvamento Solvay, come ricordato dal collega di Ineos e Inoving, Solvay ha tutte le caratteristiche, il sito di Rosignano Solvay ha tutte le potenziali caratteristiche per essere studiato per la realizzazione di uno di questi ecosistemi e stiamo lavorando con i nostri partners su questo. Rubo, il minor tempo possibile. Grazie mille. Grazie, grazie.